Ehi la girls, eccomi qua! Guarda la nostra Lisa, splendida forma! E' vero! Ma perché non ci vediamo? Che tavolo hai fatto? Ho finalmente iniziato una vita ricca e interessante! Dai, racconta! Tanto per cominciare mi sono iscritta a un corso di Zumba tutte le sere dalle 8 alle 10 sono là che sta al terno come una pazza! Grande! Ho preso un cane, un bastardino delizioso di nome Finni io lo adoro, mi scodinzono al basso ogni volta che mi vede! Che dolce! Mi sono iscritta a un corso di cinese, interessantissimo! Cavolo! Ragazze non mi bastano 24 ore, la mattina presto porto al parco Finni poi mi cambio e vado all'università ho già dato tre esami in un mese dopo un panino al volo e poi via al corso di canto jazz poi tennis, il corso di cinese poi cambio, vado a fare la passeggiata con Finni una cenetta leggera leggera e via al corso di Zumba! Tutti i giorni così! Sì! Nei weekend! Nei weekend faccio una passeggiata nei musei Caravaggio, Van Gogh, le ceramiche egizie ragazze, una favola! Non ho un attimo di tempo libero! Pensi ancora a Francesco, vero? Sì! Cavolo ragazze mi è mancato a morire! Me lo sogno tutte le notti! Dai, vedrai che prima o poi la superi! Prima o poi!